La Commissione elettorale procede a passo sperito verso la costruzione del programma e soprattutto a giorni individuerà il nome del candidato sindaco della nostra maggioranza. Lo ha annunciato da Grisolia Francesco Papa, consigliere dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Longo, maggioranza che si presenterà al voto per l'imminente tornata elettorale di primavera, a reggere le sorti del municipio di Grisolia, la lista insieme, coalizione di centro-sinistra e poi nel contenitore politico movimento civico. Assemblea impegnata su due direttrici, la scelta del candidato sindaco e la definizione del programma elettorale. La possibilità del terzo mandato per il sindaco uscente ha aperto senza dubbio una seria riflessione per la sua nuova candidatura, anche se nel gruppo è aperta una dialettica per individuare il nome del capolista. Continuità o nuovo? Vogliamo costruire la coalizione per vincere e governare, ha detto Papa. Lo stesso consigliere ha poi spiegato, manca poco e sapremo tutti il candidato a espressione della maggioranza. E poi ovviamente il programma elettorale? Si parte dall'esperienza amministrativa, dieci punti per definire un manifesto chiaro e non un libro dei sogni, manutenzione, opere pubbliche, cultura, sociale, pisla, ambiente. E Francesco Papa ha espresso tutta la sua soddisfazione per la partecipazione ai progetti integrati di sviluppo locale presenti sul comprensorio tirrenico, interventi che daranno uno slancio e non da poco conto ai confini di Crisolia. Infine un secondo passaggio. Scriveremo il programma con i cittadini, ascolteremo la base, ha detto Papa, per capire cosa è mancato e migliorare la proposta politica della maggioranza uscente. Anche gli storici rivali di Longo sono sempre attivi, dal gruppo di opposizione di Crusco fanno sapere di aver intrapreso ormai da tempo un discorso di avvicinamento alle elezioni, ma su nomi e programma niente di nuovo all'orizzonte. Tra tatticismi e segreti politici è così che Crisolia si appressa a vivere una nuova campagna elettorale.